buongiorno vediamo di fare un breve video per parlare di flat tax perché tutto quello che sto sentendo va oltre i canoni normali della sopportazione parlo di flat tax dal 2006 non l'ho inventata io l'hanno inventata due americani che si chiamano hall e rabuska me ne sono accorto prima degli altri forse o prima di altri perché quando è uscito il loro libro per illustrare la loro proposta io che lavoravo per una banca internazionale l'ho trovato in aeroporto all'epoca usava comprare libri adesso kindle telefoni social e cose di questo tipo all'epoca c'era questo difetto che si leggeva e l'avevo l'avevo comprato e praticamente subito all'inizio del libro di hall e rabuska che si intitola proprio dei flat tax dice questo sistema di tassazione totalmente nuovo e rivoluzionario può funzionare con situazioni in cui ci sono queste due caratteristiche uno sistema è molto complesso con molte deduzioni detrazioni possibilità di elusione ed evasione e io mi ricordo al nostro e due se c'è un'alta evasione elusione o similari proprio anche dovuta alla complessità del sistema e io ho detto siamo noi e quindi mi sono molto interessato e me lo sono letto d'un fiato effettivamente ho pensato che fosse molto facilmente applicabile al nostro sistema proprio perché è un sistema molto complesso e dove c'è molta evasione nel frattempo queste due caratteristiche non sono andate a migliorare cioè il sistema è diventato ancora più complesso rispetto a quasi ormai vent'anni fa praticamente e l'evasione o l'elusione non mi pare che siano migliorate in modo verticale cosa è il principio il principio è che se io invece di avere un sistema molto complicato faccio un sistema molto semplice alla fine il gettito è uguale o superiore ma i cittadini sono più contenti e soprattutto è più giusto perché invece di far sì che chi può eludere o evadere perché ha mille mega commercialisti che gli fanno fare la holding in lussemburgo o similari invece c'è la possibilità per tutti di pagare una quota giusta senza bisogno di inventarsi cose strane per evadere o eludere prima obiezione non si può fare perché è incostituzionale perché la nostra costituzione dice che il sistema fiscale è informato a criteri di progressività bene questa spaziamo via subito la tax è perfettamente costituzionale perché perché tutti si concentrano sulla liquota vale a dire 15 per cento 20 per cento 25 23 così questo tipo ognuno spara la sua ma in realtà la flat tax è composta da due pilastri dalla liquota ok e dall'altra parte c'è una deduzione cosa significa significa che io guadagno 10 ho una deduzione fissa pari a 2 io le tasse le pago soltanto su 8 ci siamo anche adesso nel nostro sistema ci sono tante deduzioni e tante detrazioni cos'è velocissimamente la differenza fra una deduzione a detrazione la deduzione toglie all'imponibile quindi io ho detto guadagno 10 tolgo 2 e pago le tasse su 8 la detrazione toglie dall'imposta quindi io guadagno 10 devo pagare 5 di tasse di queste di questo 5 tolgo 2 e quindi pago 3 questo è giusto per capire la differenza fra deduzione e detrazione perché tanti fanno confusione qualche volta magari parlando velocemente anch'io tendo a farla qui stiamo parlando di una deduzione quindi significa che si prendono i miei crediti tolgo una quota fissa su quello che rimane pago l'aliquota capite che se io rimango sotto quella quota fissa pago 0 no supponiamo che io faccio una flat tax al 20% e guadagno 10 se io pago il 20% su tutto 10 pago 2 ok se io ho una deduzione di 2 significa che io il 20% lo pago su quello che rimane vale a dire su 8 quindi pago 1,6 ma con questo sistema significa che se uno ha 2 di reddito quindi se è un reddito basso la deduzione lo copre tutto perché io ho 2 di reddito 2 me lo tolgo per la deduzione su quello che avanza pago la tassa non è nulla perché non ho più niente tolta la deduzione su cui applicare la tassa e quindi la mia aliquota è 0 il risultato di questo è che per i redditi bassi l'aliquota è 0 si crea la famosa no tax area man mano che il reddito sale aumenta anche l'aliquota reale che uno paga perché quella effettiva non è quello che viene deciso come aliquota fissa quella effettiva è tolgo la deduzione vedo quello che rimane applico la tassa ma al lato pratico se io pago come nell'esempio che vi ho fatto prima il 20% su 8 invece che su 10 di quello che di quello che guadagno e quindi pago 1,6 la mia aliquota effettiva che ho pagato sui redditi non è più il 20% ma è il 16% man mano che aumentano i redditi aumenta anche l'aliquota effettiva quindi aumenta la progressività della mia tassazione dell'aliquota effettiva e quindi il sistema anche con una sola aliquota è progressivo ci siamo quindi chi guadagna di meno paga di meno non solo in senso assoluto ma anche in senso proporzionale anche in senso come come aliquota chi guadagna di più paga di più l'unica cosa che c'è un tetto anche guadagnando una cifra notevolissima uno non può pagare più del 20% o del 15% che è l'aliquota fissata altra cosa e ma il vostro sistema quello che avete depositato dice un'altra cosa sì il nostro sistema la nostra proposta di legge che abbiamo depositato come tutte le proposte di legge è un iniziale spunto di discussione perché noi sappiamo perfettamente che arrivare immediatamente alla flat tax nuda e cruda che è quella che adesso vi spiegherò io che il punto d'arrivo che è la cosa più interessante che uno deve sapere non è facilissimo perché le incrostazioni del sistema sono molto forti quindi bisogna arrivarci per step per passaggi successivi la proposta di legge depositata è un iniziale passaggio e come tutte le proposte di legge può essere discussa e modificata in modo totale l'importante è iniziare ad lavorarci poi una volta che arriva in parlamento una volta che arriverà nelle commissioni finanze della della camera del senato ovviamente questo iniziale spunto di discussione potrà essere integrato come si vuole quindi non è il verbo il vangelo o una cosa che non si può che non si può cambiare l'importante è iniziare 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 a discutere quindi io vi dico come il punto d'arrivo finale che ideologico della della flat tax poi con che passaggi ci si arriva aperta la discussione in ogni caso non sarà una cosa fare immediatamente sarà un obiettivo di legislatura 3 e ma la flat tax l'abbiamo già fatta sì la flat tax l'abbiamo già fatta ma attenzione quella flat tax che abbiamo già fatto è un regime forfetario mi rendo conto che chi non è appassionato di fisco così questo tipo la cosa può risultati ostica ma i cittadini però lo vedono già subito cosa e come è il risultato vale a dire le piccole partite iva che hanno optato per il regime forfetario significa che non fanno il bilancio non deducono niente non detraggono niente non fanno il bilanciamento fra quanto hanno incassato e quanto hanno speso e così via non pagano l'iva nemmeno e fanno una cosa molto semplice secca dice io pago ho un fatturato questo fatturato viene modificato da un coefficiente quindi che serve per tener conto delle spese che ogni che ogni piccolo piccolo imprenditore o professionista ha quindi viene le spese vengono diciamo virtualmente ridotte di una cifra fissa qualcuno sarà più alta qualcuno sarà più bassa se dovesse andare analitico ma il sistema è cercare di farla semplice quindi io incasso 60 mi viene scalata una parte relativa alle spese che sicuramente ho tale per cui a seconda della mia professione mi diventerà 40 mila euro no qualcosa del genere questo 40 mila euro che mi risulta avere incassato viene tassato al 15 per cento io pago il mio 15 per cento e basta non ci devo più pensare non devo conservare niente non devo diventare matto con deduzioni detrazioni acconti anticipi passaggi e cose di questo tipo che sapete benissimo ogni volta che arriva un controllo da parte dell'agenzia delle entrate significa sanzioni significa ma tu hai sbagliato significa ma questa roba qua non dovevi farla sul rigo a7 dove farla sul rigo 512 no e così via e quindi uno diventa matto quando invece tutti gli autonomi sanno che un giorno passato occuparsi di altro è un giorno perso perché il non hanno il vantaggio di noi perché io sono sempre stato lavoratore dipendente che lo stipendio arriva indipendentemente dal fatto che se quel giorno ho lavorato tanto ho lavorato poco ecco quindi sottrarre giornate di lavoro a un autonomo per farlo diventare matto su conti adempimenti e così via e farlo guadagnare di meno quindi bisogna cercare di fare una cosa semplice e poi infine ricordiamo che questo regime è opzionale vuol dire hai voglia di fare ancora tutti i conti in dettaglio di quanto hai speso di quanto hai guadagnato di pagare poi la tua tassa sulla differenza puoi farlo ti lascio la possibilità di scegliere se invece optare per il regime forfettario e il fatto che milioni di persone invece abbiano scelto questa opportunità scelto scelto perché mentre il PD vuole obbligare tutto anche i bambini andare all'asilo a tre anni e se no altrimenti cosa fanno vengono con le guardie e li portano via non lo so cioè mentre loro ragionano di obblighi noi a noi piace ragionare di opportunità ti va di scegliere questo sistema sei libero di sceglierlo ti va quel sistema attuale continui ad andare avanti con l'attuale a quel punto che cosa succede noi abbiamo questo regime forfettario la prima cosa è la più facile perché il sistema già c'è già funziona si alza si alza il limite no quindi da 65 mila di limite di fatturato lo si porta a 100 mila quindi aumentano le persone che sono che hanno l'opportunità di poter di poter optare per per questo sistema questo è già un primo passaggio rispetto al rispetto all'attuale era già previsto sin dai tempi del governo gialloverde poi vi ricordate cosa è successo è arrivato il PD per l'ennesima volta nel governo il PD odia le partite IVA odia il lavoratore dipendente il lavoratore autonomo perché il suo ideale è un immigrato messo a lavorare sottopagato per una cooperativa quindi l'autonomo non non è gradito e diciamo l'espansione che era già prevista della flat tax è stata è stata bloccata a questo punto questa è facile però c'è c'è già no la legge basta cambiare il il limite e quindi tanti altri avranno l'opportunità di farlo senza inventarsi niente di nuovo niente di particolare arriviamo a come deve essere invece il l'obiettivo finale del della flat tax allora la flat tax al 15 per cento ha sempre questa obiezione dicendo ma cosa fate ma spasciate i conti ma si incassa di meno così via allora tutte le volte dove è stata applicata la flat tax tutte tutte no non è qualche volta tutte ha dato maggior gettito ha dato maggior gettito perché la gente trova conveniente e comodo prendere e pagare partiamo da un presupposto chi paga in questo momento chi sono i ricchi per il fisco italiano i ricchi per il fisco italiano sono gli onesti perché il numero di persone che pagano o che dichiarano dei redditi alti è bassissimo e questi sono quasi tutti i lavoratori dipendenti calciatori qualche grande professionista il notaio l'avvocato e così questo tipo qualche grande dirigente o similari più qualche imprenditore ligissimo e benedetto lui benedetto lui che invece di star lì a diventare matto per trovare maniere di eludere o addirittura di evadere il fisco prende dichiara tutto e paga tutto nonostante un livello fiscale assurdo assurdo per l'attività di impresa è perché ragazzi il punto il punto è quello lì è una cosa è non avere o avere dei rischi relativi ma prendere e dare una tassazione clamorosa perché ha un rischio di impresa già di suo molto forte vale a dire prendere e rimetterci è certo che poi la gente non la fa più impresa in Italia perché se va bene il mio profitto se lo pappa al fisco se invece va male fallisco io non va bene no? quindi devi cercare di incentivare questi eroi della dichiarazione per cui teniamo presente in questo momento questo inizio quando dice voglio la flat tax aiuta i ricchi no il ricco non corrisponde all'alto dichiarante diciamo così dal mio punto di vista l'alto dichiarante è un onesto ok? chi dichiara cifre alte in questo momento in Italia è onesto non è ricco se noi andiamo a vedere i casi infiniti di gente che se la girava con macchine clamorose con yacht o similari dietro troviamo delle storie che spesso e volentieri portano o a complicate strutture di holding estere lussemburghesi e così via oppure troviamo evasione totale per cui da quel lato lì eh sì la ricordo cioè giustamente vedo anche chi ascolta che cita la famosa legge del partito democratico sui centomila quindi quelli che dicono ah ma questo tu fai un favore ericchi sono gli stessi che hanno fatto una legge tale per cui se tu eri uno straniero anche se guadagnavi centomila milioni e venivi a stare in Italia pagavi centomila euro la famosa legge Ronaldo c'è tanto per dirne una benissimo quindi però se lo fanno loro è una cosa molto intelligente perché porta i redditi in Italia se pensiamo noi di rendere facile dichiarare in Italia facciamo il favore ai ricchi quindi non è così il favore o lo sgravio se capita che qualcuno che ha sempre tirato la carretta e ha dichiarato dei redditi altissimi si trova per una volta uno sgravio non è male e in ogni caso stiamo parlando di cifre piccolissime perché le persone sono poche e alla fine il gettito tutte le volte che si è sperimentato da parte dei ricchi aumenta quindi se il gettito da parte dei ricchi aumenta con questo sistema anche i servizi per i poveri ne beneficiano come dovrebbe essere scusate come dovrebbe essere allora il meccanismo è abbastanza semplice sto parlando del punto d'arrivo il punto d'arrivo dovrebbe essere fare piazza pulita di tutto il sistema dei bonus ora io lo so che la gente dice no ma come come posso fare a meno del 19% dei medicinali come posso fare a meno del 50% dei ristrutturazioni come posso fare a meno di questo di quest'altro ma non vi state rendendo conto che questo sistema dove ogni cosa ha un bonus è profondamente ingiusto? non vi state rendendo conto che alla fine non ci state guadagnando perché i prezzi sono distorti da questo sistema non vi state rendendo conto che l'estremizzazione si è avuta col 110% che alla fine i prezzi di un qualcosa per l'edilizia hanno perso ogni tipo di ragione perché se io arrivo fino all'estremo di dire ah guarda io ti faccio il 110% di quello che spendi è evidente che se io vado al fornitore e gli dico guarda mi serve un bidet quanto costa ma guarda costerebbe 500 euro 500 euro ma no tanto ho il 110% fai almeno 3000% e il risultato è che se uno davvero ha bisogno di un bidet e non ha tempo ne voglia o di fare una ristrutturazione che rientra nei canoni del 50 del 60 e così questo tipo non lo trova neanche a piangere bisogna tornare a far pagare le cose in modo normale ma soprattutto è abbastanza ingiusta questo sistema perché se io sono un miliardario e mi rifaccio la villa al mare e posso portare a deduzione dei miei redditi i famosi 100.000 euro per il 50% per il 60% e così via finisce che io non pago niente e viceversa invece ho l'operaio che ha la casa in affitto e quindi non può neanche pensare di fare la ristrutturazione di casa deve pagare la sua aliquota totale completa non è meglio che tutti paghiamo meno tasse meno tasse e i prezzi delle cose che vogliamo comprare sono normali uguali per tutti dal mio punto di vista sì quindi in questo momento il sistema che ha tutti questi bonus e così via va a beneficio di qualcuno vale a dire di quelli che in quel momento possono effettuare quel tipo di spesa e va ovviamente a detrimento di tutti gli altri che non possono fare quel tipo di spesa quindi se il sistema a regime è un sistema dove c'è una deduzione fissa su base familiare supponiamo 4.000 euro per persona quindi io ho una famiglia di 4 persone 4 persone significa che ogni persona ha diritto a una deduzione di 4.000 euro quindi 4.000 per 2 sono 8 per 3 sono 12 per 4 sono 16 16.000 euro è la mia no tax area quindi prendo i redditi familiari tolgo 16.000 euro se i miei redditi sono 16.000 euro non pago nulla ok oltre i 16.000 euro quindi se il mio reddito familiare è 20.000 euro significa che io pago il mio 15% della flat tax su 4.000 euro che è quello che cresce fra il mio reddito quello che manca diciamo così fra il mio reddito effettivo e quello che ho dedotto per i miei redditi familiari semplice basta e poi non c'è dentro certo poi non ho dentro nient'altro non ho che se vado a comprare le supposte mi devo tenere da parte gli scontrini perché è il 19% o similari o simili quindi mi spiace quello viene a mancare mi rendo conto quindi non vi sto vendendo fumo vi sto dicendo cos'è una parte che si compensa e quell'altra e quell'altra e quell'altra che rimane ma così facendo dal mio punto di vista diventa un sistema semplice facile giusto anche una colf che in questo momento la colf tante volte prende e non sa pagare le sue tasse perché arriva c'è una cosa complessissima se tu invece gliela fai così semplice poi tutti pagano anche perché diventa molto più semplice fare i controlli quanto hai incassato hai incassato tot quanto hai pagato hai pagato tot basta finita lì finita lì capito quindi dal mio punto di vista scusate come sempre chiamano nei momenti migliori dal mio punto di vista il sistema così vi sentite anche la famosa soneria con Fear of the Dark degli Iron Maiden la la mia la mia soneria la mia il mio sistema fiscale diventa molto facile e diventa giusto perché tutti sono nella stessa condizione e il gettito tutte le volte che è stato provato questo sistema aumenta perché c'è crescita perché c'è semplicità perché tutti percepiscono di essere entrati in un mondo nuovo perché tutti percepiscono che si è girata pagina rispetto al disastro attuale del sistema fiscale dove ogni volta che uno passa ci aggiunge una nuova regola e sembra fatta opposta per non capirci nulla per cui dal mio punto di vista io credo che il sistema sia comprensibile rimane un punto nel caso da discutere tutto l'accumulato adesso delle deduzioni e detrazioni di cui si è bisogno incluso il 110% quello basta renderlo cedibile una volta che noi abbiamo fatto una ristrutturazione per casa due anni fa e quindi per i prossimi otto anni io ho diritto ad avere la detrazione per la cifra la cifra derivante dai lavori che ho fatto beh certo è ovvio che se io passo col sistema flat tax non posso andare di nuovo ad entrare però basta che questo esattamente come nel principio iniziale del 110% basta che queste cifre residue possano diventare cedibili io un'idea ve l'avevo indicata per per renderli facilmente cedibili subito non li nomino ma sapete tutti di che diamine stavo parlando vogliamo fare un'altra cosa vogliamo rendere cedibili come avevano fatto inizialmente col 110% facciamo quello che vogliamo ma l'importante è che uno possa utilizzare questi soldi che sono nostri perché alla fine questo è cioè ognuno ha seguito le regole che lo Stato gli ha dato per cui io spero sinceramente di essere stato di essere stato chiaro il dal mio dal mio punto di vista il il sistema è fattibile il sistema è perfettamente adatto all'Italia il sistema è semplice non focalizziamoci sulla liquota preferite fare il 20% perché vi suona meglio invece del 15 basta aggiustare la deduzione cioè se io alzo il livello della deduzione quindi invece di 3.000 o 4.000 lo faccio diventare 5.000 o questo tipo e alzo l'aliquota diventa solo più progressivo ma il gettito a parità di gettito non cambia quindi tutto è discutibile tutto si può fare si può cambiare si può modificare io vi sto dicendo un'idea cos'è il punto di vista il punto d'arrivo secondo me che renderebbe tutti più felici qui in Italia e renderebbe tutto il sistema più lineare e più e più normale senza avere buchi di gettito voi lo sapete qual è attualmente l'aliquota pagata in media da tutti la aliquota pagata in media da tutti è il 19% quindi col sistema attuale col sistema attuale quindi con tutte le aliquote che arrivano fino al 43% in media la gente paga il 19% e voi dite come è possibile essendo che la prima aliquota è il 23% è possibile perché c'è tutta una marea di deduzioni detrazioni che qualcuno ha e altri non hanno io stesso che pure ho un reddito alto non alto come quello che avevo prima di fare questa mattana di mettermi al servizio del paese come deputato senatore ma ho un reddito alto detraggo anch'io le mie come si chiama le mie spese mediche detraggo se prendo e rifaccio il terrazzo le piante del terrazzo detraggo perché c'è il bonus verde e così via quindi è ovvio poi alla fine uno prende toglie tutto quello che è possibile togliere e alla fine l'aliquota effettiva è più bassa rispetto a quella normale ma è un sistema che può andare avanti dove ognuno che si inventa qualcosa passando il tempo dice io faccio un altro bonus perché domani arriva quello che è dietro la lobby delle cover per telefono e quindi facciamo il bonus cover telefono che va con deduzione delle trazioni ma anche basta cioè cerchiamo di pulirlo questo sistema io ripeto non lo so quante quali saranno le resistenze quanto tempo ci vorrà per riuscire ad arrivare a un sistema normale ma io sono convinto che anche i costruttori e così via tornare in un mondo normale non sarà non sarà male sarà probabilmente salutare per tutti dal mio punto di vista quindi per me si può fare per me è sostenibile se qualche settore che in questo momento ritiene di essere assolutamente dipendente dai bonus non sia così questo tipo si possono trovare tutti i sistemi possibili per incentivarlo in modo tale da accompagnare nelle transizioni ma il risultato e l'obiettivo dal mio punto di vista deve essere questo un sistema semplice facile dove tutti pagano una cifra giusta corretta e dove non è vero che ci guadagnano solo i ricchi perché ripeto in questo momento di ricchi in Italia che pagano le tasse esattamente come gli altri io non ne conosco conosco soltanto qualche onesto che dichiara che dichiara cifre elevate per cui penso di essermi spiegato questa è la filosofia che sta dietro alla flat tax la proposta di legge che vedete è uno step intermedio quindi che include soltanto i redditi bassi per iniziare quindi non è un guadagno come ho sentito col parlamentare che guadagna di meno questo tipo ovviamente questo non sarà è uno step intermedio che arriva fino a 70.000 euro di redditi anche da lavoro dipendente e penso che possa essere un passaggio interessante per riuscire ad arrivare poi alla fine a un obiettivo che dal mio punto di vista è un sogno ma penso che sia molto utile per il paese vi ringrazio ci sentiamo alla prossima grazie a tutti